Buongiorno a tutti, ho una bellissima notizia. Finalmente all'interno del canal possiamo riordinare i think link che abbiamo salvato. Quindi questo ci permette di ordinare la cartella o lo slideshow, dipende come vogliamo utilizzarlo. Per farlo questo noi andiamo sopra il think link che vogliamo spostare, per esempio se adesso voglio spostare questo, lo metto davanti. Prendo un altro, lo seleziono su, lo trascino, quindi non lasciare il mouse, lo teniamo premuto e in questo modo possiamo riordinare tutto. Voi vedete che il primo think link selezionato dà anche di nuovo in automatico la copertina. Quindi in questo caso magari potrebbe essere un'opzione di selezionare questo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e questo è tutto.